Via libera della Giunta alla procedura di assunzione di quattro nuovi agenti di polizia municipale a tempo pieno e determinato. La selezione, stando a quanto deliberato dall'esecutivo, avverrà dando priorità alla graduatoria vigente presso il comune di Battipaglia. In via subordinata invece si procederà allo scorrimento di altre graduatorie vigenti presso altri enti, con i quali sarà stipulata apposita convenzione. Nel corso della stessa seduta è stato anche approvato il progetto operativo programmatico per l'anno 2019 della Polizia Municipale, che prevede il potenziamento dei servizi serali e notturni durante i periodi con maggiore afflusso attraverso uno stanziamento totale di 30.000 euro.